Oggi proviamo ad andare in un'area delle cave di salone dove di solito non non si riesce ad andare non c'è anima viva vediamo un attimino se si riesce a passare mi sembra tutto chiuso quando è aperto per guardare e andare via c'è padrone devi parlare cosa più che da entrare stiamo cercando di vedere se riusciamo a camminare sopra gli archi Sergio ci vuoi provare non è così complicato lui è Sergio l'ho conosciuto tramite la sezione dei commenti del canale eccolo qua la sezione dei commenti del canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.